Ciao bello stronzo, ti ho visto eh Uno e uno, mille e due, mille e tre Ciao stronzo Wow, preso! Ahahahah Ma cosa? Ma che cazzo è? C'è tu hai perso un inib per sto... Lobo Elias Elias Hai perso un inib per questo? Abbiamo perso un game per questo, sì Ne è assolutamente valsa la pena Ragazzi, non potete dirmi che non è la cosa più bella che abbiate mai visto Per favore Nooo Nooo Ma è che io non ho vinta a tutti se si Non ho vinta a tutti Oh Easy Coglione LOL Lì? What the fuck? Che cazzo ho fatto? Che cazzo? What? Era la runa? Allora my bad Poi magari domani qualcuno mi picchi Può sempre essere Ad oggi da quando avevo 14 anni nessuno mi ha messo mai le mani addosso Quindi non potrei nemmeno dire che in che modo reagirei Perché sinceramente non è mai successo Sinceramente perché nessuno ha le palle Il fatto che le munizioni siano condivise sia semplice come sistema mi piace un sacco Quella è una delle cose che Oh! Oh vecchio! Minchia Che pelo che ho fatto Che mira di merda che c'ho Allora come mio esce con un fucile a pompa Oh! L'ho ucciso! Oh! Se ne è uscito con un fucile a pompa Ma l'ho ucciso ugualmente Mi zega che pippa Ho tipo 10 HP di Master Dai onesto Buon Natale a me strozzi Ecco non avrei rischiato un cazzo Se io fossi intelligente E avessi usato subito la pozione Mi si è stretto il buco del culo quando ho visto quell'accudini Allora devo stare fermo immobile Aspetta aspetta Guardalo 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 Se solo stesse fermo immobile potrei sparare tre colpi di fila Ta 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 Morto Aspetta aspetta Un singolo colpo sparo Aspetta aspetta È confusissimo non ci arriva Non lo capisce Guardalo è spaventato a morto Ma va a cacare Se questa non me l'avete clippata Mi incazzo Perché questa è stata un'opera d'arte Ma andate a cagare Easy Madonna sto Blitzcrank sta facendo dei grab che è Gesù Forza ammazzateli tutti Sì vai Vai cazzo Non ci credo Non dropperò oggi ragazzi Non dropperò oggi ragazzi Non ci credo Holy shit regà Non dropperò oggi Non è oggi il giorno No buono così cripticalita grazie mille per la donazione mate bella caro scusa se non è molto ma volevo comunque ricazzare che non mi trattavo ti ringrazio caro sei davvero gentile non importa quanto è a me fa piacere sapere che sapere che pur di aiutarmi mi dai anche 2 euro non mi frega niente quanto è mi fa piacere sono contento sono contento davvero grazie mille una delle poche verità di questo mondo è che si fa quel che si può con quel che si ha si comunque ho surrendato buono e questo è quello che non volevi succedesse dai rega cazzo dai porco dinci vi ho fatto il team fight perfetto ma mangia Zeus muori puttana porca troia questo era il team fight perfetto se lo si perdeva questo avrei quittato lol questo clippatelo e porca troia mettetelo dovunque spammatelo perché me lo merito questo cazzo questo era up uuuh tu non mi fai mi fai